Sono le 10 di mattina e stiamo per andare a registrare il primo video della stagione 2K15 2K15 è proprio un minchia, inizieremo a fare questi video backstage per farvi vedere cosa si nasconde dietro l'organizzazione di un video sketch di 3-4 minuti. Un video Apple contro Samsung, qui c'è lo storyboard Storyboard è praticamente la dedicatura delle scene che indica una sorta di copione schematizzato le trattature, le riprese, quindi è un copione che tu porti appresso Questo cellulare con i messaggi perché le persone in primis si svegliano tardissimo rispetto agli orari patuiti e quindi fanno incazzare. Per esempio vedi le merde che siccome non vogliono muoversi dal letto dicono tra mezz'ora lo devo andare a prendere calma calma Siamo a far benzina però non so se devo scendere io No, c'è il tipo, sabbi c'è il tipo ci abbiamo dietro c'è orecchia un uomo veramente sexy ah si che figo della mattonga dai almeno 4 facciamo qui cioè dopo il il negozio, mangiamo cerchiamo di fare la veloce con la parola del negozio gestiamo per le 4 ci rendiamo qualche luttura ok no, poi le 4 c'è pure il buio quindi se dobbiamo fare dell'arrivo in esterna facciamola ora cosa devi fare? luminosità che cala e diventa nica madò quale cazzo è il codice? ci sta, ci sta dai raga quando la visita la abbassi perchè la abbassa tutta e diventerà buio poi quale cazzo è il ciclo? no, allora poi ti arrivi con buio, 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 buio no, no, vabbè, ragazzi no, e poi dici di nuovo ciao morto ok allora veniamo subito piedi di porco stavo tagliando il crisi lo sento tagli veramente di merda se c'è una cosa che non ho mai saputo fare tranquillo abbiamo aspirapolveri durante le riprese poi abbiamo lui l'uomo del seco mi colo anche il cappello che ce l'ho anche in grigio per te perfetto tu quando passiamo alza la testa e ci guardi poi continua a fare cosa che vuoi ok signor dei telefoni dici tu dici tu dici tu quale telefono mi... dai dici tu dici tu dici tu oh 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 perfetto e se la metto così è anche meglio secondo me siccome stavo giocando alla sede facciamo un robò e facciamo un robò e facciamo un robò e facciamo un robò e facciamo un robò ma tu non ha stampato tu cazzo ma tu non ha fatto malissimo strappo infatti la maestra mi veniva a mettere la mano al pisello io stavo piangendo ti ha fatto una sega la maestra un pisellino e quando torno e quando torno mia madre stavo in un angolino a piangere mi sto sentendo mal ma no si sta scaricando si sta scaricando mi sa dissi ma no super mega telefono ti dimostrerò che è meglio adesso con il mio nuovo super telefono ti dimostrerò che è meglio il galaxy e io ti dimostrerò che è meglio l'iphone ma no mi sbagliato lingua benvenuti il cazzo da ben che io bambine la fredda bra 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 non muovere troppo voi braccia quando volete fredda oh che cac quante macchine passano si si infatti li faccio Selfie? Mi sto scaricando Power bag Ma sto cazzo di pappagallo Ma capo ti permette tutto il tempo, è cretino, è stronzo, è schifo, i miei sentimenti Marco, ma hai sentito che l'iPhone si piega in tasca? No, non è vero Aiuto Madonna Eh, non vuoi, è vero Perché Oh, non ce l'ho fatto Arma, c***o di morte Ciao Perché ti cerco questa mazza? Perché mi piace per fare il registro, vai via Questa è la scena finale Vai al post Questo è il Samsung Che si schiera contro Regia Si schiera contro l'iPhone Arriverà il pezzo finale Nokia 3310 Quanto c***o è bello il Nokia 3310? Samsung è meglio Samsung è meglio Questa è la tua posizione finale Lui rientra in ripresa, giusto? Sembri un nonno di 80 anni E il Nokia 3310 è vecchio Eh sì, ci sto E c'ha ragione E c'ha ragione Arriva il vecchio Nokia 3310 Vuoi dare il bastone? No? No? Non c***o di non c***o di fare così Sì Oh E va bene Ernesto Deve stare tosto, non vecchio decreto Fai così Io No, no, supereroe Giuseppe Simone Forte Io sono il meglio Ti provoco? Sì Io sono il meglio io sono il meglio io sono il meglio sa che è il meglio è meglio io sono il meglio no 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 bruttissimo 3 apri spracanali bello però non ti muovere troppo stavi cadendo io sono Ernest serio Ernest stavi ridendo oh calmati un attimo